Sono qua oggi per presentare questo grandissimo progetto cinematografico dedicato alla Madonna dei Migiugori e in fondo alla salita. Questo è un progetto che è nato a me durante un'apparizione della veggente Visca Ivankovic a Sesto nel Modenese e in quel momento ho sentito nel mio cuore che avrei dovuto realizzare un film su Međugorje. È un grandissimo progetto cinematografico che ha avuto l'adesione di tantissimi personaggi. È possibile sostenere il progetto attraverso il sito web di Infondo alla Salita che è www.infondalassalita.com e noi confidiamo veramente nel vostro aiuto e speriamo che questo sia veramente un progetto per mandare un grandissimo messaggio a tantissimi giovani del mondo. Io ero un ammalato di cancro. La fede mi ha aiutato ad uscire da una situazione di questo tipo. Ho portato e ho scritto due libri perché avendo sperimentato la fede, avendo sperimentato un pellegrinaggio a Međugorje, io a Međugorje ci vado dal 1987, so che cosa significa testimoniare, so che cosa vuol dire parlare, portare la voce di Dio, portare la voce di quello che si è sperimentato sulla propria pelle. Io ho accompagnato per la parte spirituale alcuni gruppi di preghiera, alcuni gruppi di giovani, di adulti e questa esperienza mi ha fatto conoscere soprattutto la forza di conversione. Siamo nell'anno della misericordia e quindi credo che fa parte anche del nostro compito di pastore di accompagnare questi giovani soprattutto.